Io sostengo la candidatura di Goffredo Bettini perché è una persona di una storia pulita, di un percorso di credibilità, di sensibilità, di uno spiccato valore culturale di cui questa Europa ha bisogno e che anche nell'ottica di una crescita dei giovani deve essere supervisionata da una persona di profondo passato e che può dare insegno per tutti noi.